Tutte le istituzioni in questo momento hanno molta difficoltà a instaurare un vero rapporto, diciamo con le generazioni più giovani. L'idea è quella di offrire a tutti, ma naturalmente il nostro sogno è ai più giovani, un luogo virtuale in rete dove possa avvenire uno scambio assolutamente non obbligatorio, non paludato, non censurato. Fare un passo avanti sarebbe quello che qualcuno come voi o di voi ogni tanto fosse interessato a dialogare, decidere di mettere in una rete di comunità le proprie idee che riguardano o la propria città, se una è lì qui, o la città dove studia. Che impressione ti ha fatto questo dialogo con gli studenti del terzo anno di Scienza e Comunicazione di Savona? È stato un incontro molto utile. Tra l'altro colpisce verificare nei fatti, anche se è un dato noto sulla carta, che l'aula fosse composta in maggioranza di studenti che provengono da fuori Savona e prevalenza da Genova e questo è un dato emblematico di cosa rappresenta il campus per la città, cioè una grande opportunità di farsi conoscere, una grande opportunità di attirare giovani, intelligenze dall'esterno. Questa è una grande risorsa in sé, il campus oggi offre dei servizi di ottima qualità al proprio interno. Questo è un tema che già conoscevamo ma che oggi è emerso con grande chiarezza, anche con tutta una serie di proposte, quindi un incontro interessante dal quale nascono temi sui quali lavorare.